ciao a tutti e bentornati qui su sai che web tv in una nuova puntata di sai che questa puntata la dedichiamo all'amico autore e cantante paolo farina perché abbiamo realizzato il video per paolo farina effettivamente siamo tutti quanti noi tre più arianna protagonisti e naturalmente anche paolo protagonisti del suo videoclip che abbiamo girato a castellana a castellana ea bari ea bari e che cosa vedremo vedremo una parte della sua intervista fatta qui nei nostri studi in un altro programma televisivo e si chiama top video vision forse l'avete già visto già visto è perché è solo per la tv e mentre successivamente vi fare cioè vi vedrete gusterete questa bellissima canzone di paolo farina che si titola veri nice tra l'altro molto simpatica carina anzi io direi allegra e positiva poi vi voglio vedere proprio andare in giro a cantare questa canzone comunque il video veramente molto simpatico è stato una bella esperienza realizzare creare insieme con anche con altre persone che hanno partecipato in questo video che salutiamo ciao a tutti e ovviamente paolo è stato bravissimo come sempre e naturalmente alla regia e al montaggio c'era sempre il solito io pino quello la molto bene spero che la canzone vi piaccia sicuramente sì magari commentate nei commenti i vostri pensieri se avete riconosciuto qualche posto in particolare perché ce ne saranno un po di posticini che sicuramente riconoscerete ok salutiamo ancora una volta paolo farina che si trova a milano in questi periodi e salutiamo ancora arianna per perché ha collaborato alla realizzazione del video e tutti coloro che le hanno partecipato quindi ciao a tutti da tutti noi e ci vediamo l'intervista e poi il videoclip di very nice salve sono paolo farina come già è stato detto vengo da milano nel senso che l'estate la passo qui perché appunto sono nato a castellana grotte e sono musicista ho diversi progetti all'attivo a cominciare da un progetto 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 house fatto musica etnica in dialetto magari poi riprendiamo sto discorso perché riguarda proprio il dialetto di castellana grotte ho fatto della musica progetto progetto rock progressi e adesso sto lavorando a due dischi blues cioè uno è uscito l'altro ci raccanzioni blues, però diciamo che sono qui per parlare di questo video girato da poco, girato da appunto Iopino ed è un video che riguarda una canzone che è al di fuori dei dischi perché è un singolo, si chiama Very Nice, è un titolo molto positivo perché parla di una ragazza che vuol cambiare vita, vuol andare in città, vuol seguire i suoi sogni cioè diventare modella, attrice oppure cantante e c'è questo, come dire, seguirla in modo positivo in questa sua avventura. Mamma piange alla stazione, il treno corre già, mentre nascosto in un vagone scommetto che ci trovi papà, ma la tua mente vola, guarda lontano, lontano da qua, e se la vita uno specchio sarà, ti sorriderà, con te la vita sarà, very, very nice ora sarà, very, 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 very nice ora sarà, very, 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 very nice Nella tua scuola sulla lavagna qualcuno scriverà Buona fortuna per la compagna, per quella che se ne è andata in città ti sentirai più grande, sotto la casa più alta che c'è e salirai sicura perché è ciò che fa per te con te la vita sarà, very, very nice con te la vita ora sarà, very, very nice ora sarà, very, 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 very nice Nice, nice, nice Very, very nice Nice, nice, nice Very, very nice Nice, nice, nice Very, very nice Very, very nice Thank you Thank you Thank you